oh eccoci qui eccoci qui buonasera a tutti buonasera a tutti benvenuti in taverna benvenuti in questa nuova live e come state belli come state stasera si gioca hogwarts e non vedo l'ora di continuare perché mi sta veramente tanto tanto piacendo era da tanto che non avevo una roba del genere con un gioco fatto fatemi abbassare un po questa roba qui perché io stasera ho la voce un po bassa come sentite ma perché sono leggermente stanco leggermente distrutto ma comunque vediamo che ci abbiamo axel gretimo e panzi come ai vecchi tempi tutti i miei silenziosi che si fa oggi oggi si fa un po di esplorazione buonasera anche a te fier da quanto bello benvenuto come stai oggi si fa un po di esplorazione come al solito ci facciamo sempre magari poi quelle due quest di trama e si spera di trovare gli animali si spera di trovare gli animali buonasera anche a te giorca guarda col corgiotto d'argento bellissimo come stai benvenuto axel lo spawn kill praticamente ma poi prima o poi si voi dovete sapere che axel io credo penso che nessuno riuscirà mai a battere ma perché non so tanto sto vedendo che stiamo laggando per quale motivo datemi un attimo perché stiamo laggando vabbè ci prendiamo un po di just chatting iniziale perché può essere che giustamente a quel periodo datemi un attimo datemi un attimo eh sì c'è la connessione un po che fa la merda ma aspetteremo un po quindi perdonatemi mi sa che mi dovrete tenere un po l'agghicchiante spero tra l'altro infatti che non stia andando troppo in buffering la live ma dovrebbe sistemarsi al più presto spero tutto bene dai non mi lamento stavo dicendo che axel io non so come cazzo fa ragazzi ma perché è tipo vero spawn kill cioè io neanche come posso fare non c'è altro non è una cosa brutta anzi è bellissimo eh si fai fai tranquillo jorak ma voi dovete capire che io premo vai live dieci secondi dopo c'è il messaggio di axel veramente eh ma tipo un millisecondo dopo io non so come cazzo sia possibile perché lui mi ha detto nel privato che praticamente sta lì quando sente c'è tiene aperta la scheda quando sente che parte l'audio fa in violet c'ha il messaggio praticamente se lo scrive poi fa quindi ok tratto si è sistemata vedo ok c'è stato questo spike iniziale perdonati buonasera il patronus lì c'è una tarantola no il mio patronus è un bellissimo bassotto è un bellissimo bassotto di quelli che do tedeschi quelli inglesi comunque benvenuto ragnar come stai bello come stai tanto poi che stai che vediamo madonna eccoci spero che oggi troviamo gli animali spero anch'io panzi perché non vedo l'ora di poter fare le boh le cucciolate di snazi a destra e sinistra si è sistemato perché io ho il no non si è sistemato manco per il cazzo e aspettiamo un po' ragazzi aspettiamo un po' perché ci sono queste spike inverosimili di lag madonna madonna che cazzo c'è faccio uno speed test ma voi che mi raccontate come è andato il vostro giovedì io oggi sto un po' malino di pancia cioè sono un po' in subbuio quindi sono molto zitto zitto sperando che non sia una di quelle solite cose di streamlabs ma non credo a sto punto no perché qui non ci sono download fammi vedere siamo crollati male no è che ogni tanto parto ogni frame perdonate fammi vedere fammi vedere eh sì eh sì eh sì ahia vabbè aspettiamo un po' ragazzi e si fa un po' di just chatting stiamo così nel cile mentre anche la gente arriva non so perché sta facendo queste spike dato che comunque in upload ci sono 19 megabyte ma va bene che tanto mi hanno detto che all'interno del gioco non c'è il patronus che ci sta è perché se non c'è il nemico del dissenatore non c'è senso mettere l'incantesimo del patronus però è un peccato capisco che magari mettersi a modellare 27 tipi di patronus non era propriamente il il top perché effettivamente non credo ne esistano tipo 20 ma ne esistono un ottio come si chiama il sito per sapere il proprio patronus o proprio scopri all'interno no no c'è il sito ufficiale che si chiama wizarding world dove voi potete farvi il test per la casa per la bacchetta e per il patronus e tra l'altro potete collegarlo proprio direttamente al gioco e infatti casa e bacchetta provengono da lì io mi sono preso quelli che mi disse il che appunto mi disse il coso il sito proprio si chiama wizarding world dato si è ristabilito no sta succedendo qualcosa a casa mia devo spezzare delle tibie però attendiamo ancora un po' tra l'altro siamo già sei belli perdonate che faccio un po' di sospiri ma oggi è stata una giornata lunga è stata veramente veramente lunga mi sono messo anche a fare delle cose dietro le quinte appena posso devo continuare a scrivere quel cazzo di video di dragon's dogma perché porca puttana il primo è stato sul guerriero il prossimo sarà sul mago e gesù se è lunga ha fatto bene a fare quei due piccoli video non pasticca però pillola con cui fare le cose però non vedo l'ora di giocare non vedo veramente l'ora di giocare infatti sto aspettando che sta connessione si sistema cioè se in realtà si sia sistema no l'ho appena detto ha detto io tiro una laggata porca madonna attendiamo attendiamo no ma non è twitch perché si vede proprio che è la connessione cioè tecnicamente no però per twitch sì quindi perché purtroppo come dico sempre a casa mia c'è questo proprio vedremo cioè in realtà in questa zona che alle 10 c'è quel momento di merda cioè non so che cosa succede alle 10 se ci sta magari qualche flusso gigante ma è capitato tantissime volte che alle 10 dalle 10 alle 10 e 20 e compagnia lagga ma random cioè non c'è un motivo c'è piove c'è l'esplosione atomica no no lagga così vedete che sono in quei momenti magari in cui fanno non so un refresh delle cellule o qualche altra roba che non ho idea calcola fear che l'avevo detto già in passato in futuro ci saranno dei ritorni di tutti questi piccoli giochi però sotto forma di speedrun cercheremo di magari giocarli tutti in una sera i dragon's dogma i vari kingdomers ovviamente giochi che conosco e che so che si possono fare perché mi piace ovviamente speedrun amatoriali non non robe da esperto dove uno si va a fare i frame skip sa tutti speedrun molto amatoriali molto per farle quindi però ci sarà anche perché poi in futuro quando uscirà penso che non si sa ancora un cazzo kingdomers 4 ce lo giochiamo io kingdomers 4 ho tanto tanto hype fanno bene a starsi zitti perché square enix è sempre stata così anche perché prima di usci kingdomers 4 dovrà uscire final fantasy 16 quindi hey vediamo vediamo ti sei sistemata cucciolona ti sei sistemata sembra di sì ma tanto lo so che stai mentendo lo so che stai mentendo lo so lo so anche perché vedete poi ci stanno questi momenti in cui sta andando perfetta cioè nel senso se la connessione va male va male cioè nel senso non va non fa full e minimo full e minimo cioè va di merda cioè se va di merda va di merda nel senso non è che ci sta in aria di mezzo però vabbè 46 secondi di ritardo di chat mi tilta the what come 46 secondi va sera corvo come stai bello ah infatti quando vedete queste cose se vedete che io rispetto a voi laggo cioè arrivo molto più in ritardo rifresciate rifresciate perché quando ci sono queste spike di lag si sminchia cioè si sminchia perché col fatto che perdiamo frame cioè perdo frame e compagnia vi si sminchia la sincronizzazione ma tecnicamente io proprio ho messo peso aggiuntivo sulle live per farle istantanea perché voglio averlo questo approccio molto rapido indolore sembra essersi sistemato faccio la finta che magari non se ne accorge avvio la sigla ma l'avvio davvero si è sistemato forse quindi sono proprio uscito dal lato oscuro del bc pensate alla citazione del bc non mi non mi so più mi viene monster monster n.co però non credo sia sia quello alla tua via e ci voleva che ci voleva diamo il via la sigla benvenuto a darlo che il mio corgiotto di diamante dov'è la sigla eccola qui è molto da assimilare il primo giorno mi sembra incredibile essere qui la professoressa Weasley ha chiesto ai professori di fornirti alcuni insegnamenti al di fuori del curriculum ordinario hai tanto da imparare la nostra eredità è nelle tue mani eccoci eccoci qui eccoci qui andiamo di qua così non dovremo avere problemi sempre pronti sempre a pallettoni con il nostro bel personaggio l'ultima volta in realtà non l'ho aperto una volta quindi penso siamo rimasti proprio dove ho salvato l'ultima volta esatto ah no è vero l'ultima volta io vado no infatti mi viene Warlock perché stavi qua cazzo è passato bello ci vediamo domani con Dragon Age hai visto Sifir hai visto perdonami perdonami allora l'ultima volta io sapete dopo la che cazzo mi sono messo a fare per un paio d'ore mi sono messo a decorare cioè a decorare e in realtà ho fatto eh cioè ho fatto tipo Walter White ho messo roba qua con poster cazzi e mazzi vari piantine piantoni ho messo ho piazzato tutto quello che potevo piazzare ragazzi tutto ho piazzato e ho scoperto che il fiorellino di merda per fare come si chiama per fare questa la focalizzante potevo piantarlo soltanto che è un'arma media è un'arma è una è una pianta media però quindi dovremmo avere le pozioni ho fatto i famosi cristalli magici sì sì ma tranquillo Corvo che tanto finché ci stanno problemi i mod non servono ho messo questi cosi che credo siano un must perché questi dopo ogni tutto vi danno i cristalli per mettere la roba dentro la stanza delle necessità esso veramente servono credo perché o volete andare in giro come degli stronzi a farmarli o servono hai visto sì Ragnar hai visto sì che io da mago da mago da in realtà pazzo sgravato che vuole le cose tutte precise qui abbiamo anche lo snasino mi sono messo a mettere tutto preciso tutte cose poi piano piano si amplierà e compagnia per carità però ho messo la roba quella essenziale chiamata fare veramente la droga in massa grazie Tic cosa stai mangiando alle caramelle tutti i gusti più uno ma così ma figata allora facciamo un po' di missioni perché avevamo la pozione focalizzante e poi pozione maxima ed edurus e poi usare simultaneamente quindi dobbiamo usare la focalizzante così prendiamo anche un po' di incantesimi dov'è la focalizzante ma posso usarla direttamente da qua tipo faccio x no devo fare così ciapala che belli gli effetti ok e poi dobbiamo usare la maxima e la edurus ti rende la pelle dura come la roccia ok e quindi beh l'ho fatto no scusate ah frequenta la lezione di pozioni ok comunque diventare di roccia io so che sono una persona cattiva ragazzi però io penso a delle cose veramente meglio meglio non parlarne diciamo così porca puttana qual'è quella più vicina qual'è quella più vicina segui missione questo credo eh sì sono gli scubi snack che tra l'altro mi ricordo che era nei cartoni vecchi li rendevano scubi un supereroe a random salve prof mi serve l'incantesimo puoi far passare il tempo ah ok che tra l'altro qualcuno di voi mi ha detto come cazzarola devo tenere premuto questo ah dalla mappa ok mi hanno detto come cavolo si fanno quelle gemme quelle con il cosetto avvinghiato è di notte io non so se c'è qualche cosa riguardante i mostri ma i mostri vabbè le bestie magiche che non so però devi andare lì di notte madonna i capelli questa bella piantata in cu ma tra l'altro scusate ma c'era in prima linea coso quello cieco che stava a guardare le pozioni seriamente come sta andando con i compiti assegnati tutto bene già fatto ho completato i suoi incarichi professore bene ora sei pronto per apprendere depulso ok vediamo cosa riesci a fare depulso buonasera nego come stai bellissima le 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 vabbè serve per respingere questo giustamente c'è il lo dici tu questo come mai ti sei allenata sei andata a correre hai fatto le cose fammi leggere energetico energico e spinge con forza considerare molti tipi di oggetti nemici sebbene non infilga danni diretti nemici e oggetti possono essere lanciati gli uni contro gli altri con esiti divastanti utile anche per spingere e far ruotare gli oggetti per una varietà di scopi differenti va bene ok abbiamo anche il quarto il quarto slot ci mettiamo questo allora mettiamo sempre sopra il rosso così me lo ricordo ci mettiamo con fringo a destra quello giallo e sotto allora facciamo questo sotto questo a sinistra mi sono allora ci sta soprattutto se sono le prime volte l'acido lattico sarà alla alle regole del giorno il quarto si lascia perde fear lascia perde io stasera sto sciolto come al solito ma il prof è una brutta copia di can you ribs in realtà mi sembra un mischio si tra lui e piton cioè è tipo un piton un po' uscito male eeeh vabbè quindi depulso no questo è accio porca troia depulso il cattesimo esilio ok depulso va bene adesso mi dovrò a destra c'ho la roba per l'esplorazione sotto la stanza necessità sopra roba per menare minchia se pettate minchia se mi confonderò però facendo cioè se siete molto abili nel cambiare le cose potete fare delle combo infinite porca Eva cioè potete fare delle porcate e inverosimili che è successo corvo che è successo cosa cosa ti serve eeeh c'abbiamo altre missioni sì dovremmo averne parecchi incarico la professoressa allium ottieni una e usa una tentacula velenosa ottieni e usa una mandragola su più nemici allo stesso tempo il vero problema è dove cazzo ah proprio così proprio brutalmente così pubblicità per chi non c'ha l'abbonamento raccimuliamo un po' di soldi tra un minuto tornerete ragazzi sempre grazie per il support no non credo infatti fosse neanche nato il nostro caro oh mio dio come si chiamava eeeh non mi viene raptor appunto sì minchia stasera sto morto infatti mi sistema tutte cose eh ma il vero problema è come le faccio a ottenere sempre dai dai miei vasetti ma non credo perché io ce l'ho vasi piccoli e medi non mi ce le fa piantare a meno che non devo andare a comprare hogsmade ma io sono povero se non mi ricordo male fammi vedere neanche tanto in un sogno è diventato furry ti sei sei l'hai DJ voluto vale benvenuto comunque dov'è la mappa ma questa mi sa che la lasciamo ancora lì perché non so come farle le tentacole e compagnia incarico di madama kogawa eserciti nel volo vicino alle guie andiamo andiamo infatti mi vabbè usiamo la mappa sempre meno male che me le so prese tutte le metro polveri perché se non veramente io già mi ero ammazzato per andare in giro fa la scuola viaggio quindi prendiamo tutti i piccoli incantesimi si può cominciare a esplorare per bene eccoci qui mmm le finalmente abbiamo la scopa si che bellina però io voglio gli animali fantastici io voglio fare una famiglia infinita di snasi e madonna dove cavolo stiamo andando che bello cioè vedete la velocità che di poter fare questa roba è veramente figa allora proviamo depulso glacius ma qua che bello ok i lupi giustamente sono deboli al fuoco ok scusi lupo non volevo menarti però stavi qua già che ci siamo facciamo anche qualche prova di merlino tra l'altro la salvia potete metterla dentro ai vasetti ne fate 7000 kg e a sto punto mi viene anche da pensare a che cosa serve doverla per forza utilizzare sì ho capito che devo fare qualcosa con questi sono verdi no 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 ah va bene ok eh scusa la prova di merlino era fare esplodere le pietre ma perché ma scusa merlino non ci aveva un cazzo da fa merlino non ci aveva niente da fa e diceva vabbè si mettiamo un po' di roba random in giro per il posto stavano qua sotto i palloncini sì eccoli così ne approfitto anche per fare questi miau la scopa comunque è veramente bellissima da usare perché potevano farla molto più legnosa è una rottura di coglioni invece è veramente figa eccolo ci sono altri cosi ecco forse l'unica è non poter guardare su e giù però vabbè ci si abitua fai un levioso e poi vero lo tipo fa gravità zero quindi lo sparo a fanculo mo ci proviamo nice roleplay nico roleplay anche se un giorno voglio fare le cose quelle tutte del ciollo tutto vestito con la pelle di serpente perché ci sono questi ah perché è fatto apposta ok puoi scagliare nemico a mezz'aria contro qualcosa impresa nei duelli che duelli duelli contro chi allora qua c'è un'impresa di merlino e mo veniamo a farla però qui avevo visto dei nemici o me li sono immaginati lì giù c'è anche una piattaforma d'atterraggio pipi le ah questa si è letteralmente a terra ci sopra completa gli incarichi che ti ho assegnato puoi raggiungimi nella mia classe ed è già è la madonna damme un attimo eh si merlino era amico dei macchiavelli palesemente qua c'è un'altra prova buongiorno si la porta dovrebbe portare anche richard ma non vorrei dire cazzate però giustamente ci sta quindi devo portare delle palle lì a casa non so dove è arrivata la Miss Croft perché purtroppo non so passato molto in live andate andate palline andate vai stronz accio i tuoi dedusorella via qua devi infilare quattro pa e chissà dove c'è qualcos'altro che non sto ah di là ok non ho voi buongiorno dai sali su sta capretta di montagna giù dalla collina ah ok sono tutte collegate meno male immagino se no che puttanaio anche se una delle professoresse dovrebbe insegnarci proprio un levioso no com'è vingardium leviosa ah ecco madonna perché il blu in mezzo al verde ragazzi non si vede mai e questa dove sta la roba che devo fare esplodere sopra il picco della montagna no forse lì giù perché vedo delle cosette ma io a ermione da mo' che gli avevo tirato una graniata non si dice così po setto nasale tutto ermione i sintomi del paziente il culo di pelle butterata butterata che vuol dire io sapevo che c'era il culo butterato ma la pelle no cintille tarnutite dalle narici e uno sfogo verde e viola fra le rita dei piedi è un caso da di vagliolo o di drago possibilmente letale infatti ci stavo a ripensare questo che cos'era era durante animali fantastici che ne parlano di questa roba così ho richiesto la somministrazione della seconda dose della cura Gorsemur ma potrebbe non bastare per questo ho anche prescritto nelle sir per rindurre euforia per alleviare il probabile trapasso del paziente devo sterilizzare i miei strumenti la malattia è altamente contagiosa ok al di là del completamento della missione di cornacchia a livello di storia quindi dovrebbe tipo essere al pari di di Azkaban tipo no altri spike di lag ci stanno no qua mi dice vabbè può essere che non me ne so accorto effettivamente però dovrebbero essersi risistemati purtroppo ragazzi questo orario per la mia connessione lo sapete che è un po' un figlio di v però speriamo non faccia cose bastarde grazie che mi hai avvisato Fior sali qua sali sali e cazzo infatti qua salite bastarde eh easy 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 ah quindi sono tutti e due poi corvo nero quindi tanto i miei amici pure un paio corvo nero uno serpe verde tasso rosso dei miei nessuno peccato un punto talento buono vabbè tanto poi ci ritorneremo ad esplorare qui niam immagina adesso mentre volo mi piglia un drago perché sta scendendo da solo ah perché non posso ok era quella cosa che diceva di non poter arrivare a certe altezze qui ci sta qualcuno sì che ci sta qualcuno salve a lei l qui c'è qualcuno che mi ma quanti cazzo siete che cosa faceva questa non ho dubbio piglio tutto a chi cazzo l'hai tirato ok c'è altra gente di qua non posso saltare in furtivi e invece sì però non si può arrampicare vabbè ma cazzo voi signor ma fatte una padellata guardate cazzo cazzo tua ecco ecco se te ripatti cazzo tua n'era successo niente leviosa leviosa e poi un ok semplicemente gira un po' come un rincoi ma stai zitto tutto qui pom esploso male e addirittura e addirittura i bietrificus total così cattiveria guarda che te faccio io fai a evitare un soldato per intorper il suo lancio di espulso ok a doppio lo fa il maledetto reducto madonna ma che bello quanti incantesimi ah pensavo di essere troppo di essere vicino buonasera liquid come stai bello bienvenido cazzo non ho fatto in tempo no bibi le puzze mortacci tua oh dai a cuccia un po' taci dovresti fare quando non c'è una struttura che cosa corvo cosa mi son pedo mi sto installando son of the forest è vero che dovrebbe uscire domani quello io vorrei giocarlo un sacco devo solo trovare il cavolo di tempo devo trovare il tempo veramente veramente devi salire sopra è uscito oggi ok ah è vero perché avevo visto come si chiama coop tv o coop tv non ho mai capito come si fa levioso e depulso ah ok ora capisco meglio questo che cosa è per città le 19 ok figata da quel che ho visto dovrebbe essere migliorato veramente un botto solo così così poco mi aspettavo di più ma posso rifarle esplodere si va che matto madonna cosa sta succedendo qua nel mentre scusate rifacciamo perdonate scusate scusate immaginate quanto potrebbe essere utile nella vita vera sto cazzo di incantesimo il che non è per niente una cosa da poco dato che io da quel che mi ricordo il primo era ottimizzato abbastanza col culo per di di qua c'è qualcosa c'è qualcosa c'è anche una borsa nel pavimento a random cosa ho trovato polvere buio pesto peruviana su questa polvere originaria del peru viene lanciata in aria genera eh ah si viene lanciata in aria genera un'oscurità impenetrabile resistente a quasi tutti gli incantesimi che creano luce gli ashwini nella zona la utilizzano per rubare senza essere visti minchia praticamente è l'incantesimo oscurità identificata superstation 4 io non non voglio saperlo fia perché secondo me madonna ma si dai poi dipende pure da che cosa c'è nel computer dipende molto da cosa nel computer perché qui c'è questo ah c'è se io qua non c'avevo con fringo questo non lo sembra una giacchetta alla newt la voglio basta non c'è nient'altro io però lo continuo a dire ma potremmo farlo durare un po' di più l'effetto di questo cazzo di revelio qui c'è roba da rubare c'è roba da rubare da luttare salve è caduta una pera una pera vabbè crudeltà mica io voglio sapere come si fusano queste cose ma sicuramente ci sarà qualche robo qualche struttura dentro la stanza delle necessità ma sicuro perché diventano blu queste ah perché sono della prova di merlino mo ci andiamo eh ma devo avere cioè proprio così a stecca o do bisogno di qualche cosa in particolare un monk dove dove è monk ah eccoli no non so sono funghi dove cazzo ah no ma scusate ma che hanno fatto tipo città hollow knight c'ha sembra quasi sapete no i vermicelli uova di ashwinder che queste sono pericolosissime io continuo a dirlo io continuo a dirlo che queste sono pericolosissime ragazzi gli ashwinder penso siano una delle cose che boh boh perché metterle nel mondo di gioco cioè il mondo in generale un paucino salve potrebbero fare tipo che se tenevi per mudo cerchio mentre cade mentre cadevi salivi sulla scopa mette tutta la malva ma lo sai georak che in realtà ci sono due scuole di pensiero perché in hollow knight in realtà se tu poi vai a leggerti la lore e tutto quanto anche del ciondolo non è non li ha uccisi effettivamente li ha tipo cioè li ha mangiati perché poi lui darà da pasto a loro che si evolveranno e diventeranno delle farfalle cioè si nella realtà dei fatti si è sacrificato perché morirà il padre questo che cosa c'è qualcosa sotto no era decorazione si può potenziare con i punti ok però me li tengo perché da quando ho scoperto che non puoi prenderti tutto bisogna stare attenti infatti effettivamente come te la mettono lì per lì già ora che tu dici bastardo maledetto dove cazzo è l'ultimo ah eccolo fatto no sotto dal dirupo nessuno è perfetto sopra il dirupo ti capisco mi capisco cazzo ma sono delle pietre giganti ma se dovrebbero vedere forse qua dietro porca Eva no ci sono dei nidi di Ashwinder eccolo lì sopra porca puttana ok perché non posso smontare qua è pianura oh questa appende per il cu qui qui qua oh ho capito di qua qua invece si no va bene eh ah ok vabbè era tipo enigma sali qua ok caputana Gesù continua a dire l'effetto molto molto bellino che tanto ci ne dovrebbe essere anche una dentro scuola da qualche parte che non ricordo no ce l'hanno tutte un po' credo la lanternina penso che magari quelle che non ce l'hanno è tipo magica o qualche non so però da quel che ho visto tutte hanno l'illumino ah un altro accampamento de bestie de satana questo bello come non notino una gigantesca sapete persona sulla scopa che vola con un lumino atterriamo qua perché c'è sani i ragni è già morto dove stai a sbugare stronzo mi sto abituando a questi ragni perché ma che cazzo di domanda ti stai a fare dopo che abbiamo sterminato dei rai mi sto abituando prima facevano molto più schifo so che con le mie facce non sembra però allora questo serve per salire qui venghino signore piano piano che se ti arriva in faccia so cazzi tanto verrà qualche mago che ha fatto accio pum gli è arrivata una sedia in testa si è ammazzato da solo di qua sotto c'è roba da fare esplodere adesso ci andiamo oh figo ok vabbè non mi sembrava necessario il dover scendere le ok stiamo facendo esplorazione oggi sono contento sono contento da lì non ci si può fare in nessun modo no parkour e fuori c'è gente da minare poi effettivamente posso far io mi dimentico questa cosa mi dimentico di avere una scopa volante ragazzi si eh ma sei maledetto che ho liberato io non so che bello che li fai schiantare sulle robe sono ripartite delle pubblicità credo grazie sempre a tutti quanti per il sap sempre gentilissimi tanto tipo 20 minuti fa è partita già quindi molti di voi non la staranno vedendo salve io 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 devo capire ma noi li stiamo uccidendo tutti questi cristi penso di sì perché è una bombarda esplosioni e fuoco non credo che poco facciano cucciolino eppace avevo qualcuno dietro cazzo è successo perché è morto quello buongiorno guardate ragazzi ho inventato un nuovo incantesimo accio ha sbagliato mira ha preso tipo un frigo è morto malissimo se io me ne immagino sempre queste situazioni dove inventano gli incantesi cioè tutta la fase di sperimentazione di creazione in cui magari saltano dita succedono delle robe che tu dici ok e ho sbagliato ah beh ci sarà una prova di merlino eh ovviamente andiamo a fare la prova di merlino no ok le animazioni sono così tanto ben concatenate ogni tanto penso tipo ok non l'ha preso non ha preso l'input e invece e invece invece questo serve a va bene ok qua dentro allora sopra ci sono dei ragnetti piccoli maligni ma io posso fare tipo no mi sembrava un falò comunque cose da fare si lo so ragazzi che sto spammando Reveglio ma è è la via è the way no non sono così cattivo anche se anche se comunque tanto ho scoperto che in inglese fa di cognome garlic ci avevo preso sulla cosa che è fatta per assomigliare all'aglio ci avevo preso dove cazzo era la roba qua dentro salve mamma mia no 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 dovevi usare le casse per salire vabbè ok c'era il buco c'era il buchino rinfilati tutto rinfilati ce n'era una sopra eccolo lì merlino stesso e non continuo oh ho visto un dodo ho visto un dodo era sulla schermata salve ma io qui dentro domanda se facessi tipo ah no peccato sono indistruttibili pecca ah ok cazzarola avevo visto un dodo me lo potrei essere sognato eh smart site cosa servono le scale se ho questo mi è uscito tutto vabbè ma rule 34 in generale gli artisti sono sempre un è una una sicurezza ragazzi bastardi sì quella mi serve per salire lì sopra ma non è che leviosa è semplicemente tra virgolettoni un accio più preciso cioè magari che poi posiziona bene la roba così perché in combattimento cioè se abbiamo già levioso in combattimento che cazzo mi serve un'altra roba che faccio boh tutta la gente del circondario un accessorio per la testa leggendario non identificato scendi buongiorno buongiorno ma io mi ricordo quando doveva uscire resident evil 7 o anche overwatch non è pepe che veramente hanno fatto più roba loro che altro andiamo di là però ho visto dei palloni mi sono immaginati ma io che cazzo c'ho che vedo la roba e poi non c'è davvero ah eccoli perché erano lontani no troppo lontani andiamo a fare la cosa andiamo andiamo che bello però è stato un cambio di shader fortissimo qui dove siamo non lo so non ne ho veramente idea scusate faccio gli effetti io sono effettista non so se si dice così comunque le scope sono fatte come le auto dei videogame perdono il controllo da andare troppo veloci perdono il controllo qui buongiorno incendio incendio bastarda meglio che soffri sono contento se soffri che ne pensi che ne pensi fanno anche Yahweh figata Voyage Voyage Winder ti serve un Voyage Wind che si prepara ad evocare danneggio un nemico congelato ok uno l'abbiamo fatta ma non ce l'ho Espelliarmus posso cambiarli sì allora a posto Espelliarmus un accio un Leviosa ci mettiamo un incendio mi sono dimenticato che questa è una madonna perché posso disarmarli intanto se l'è preso da solo il colpo figata ah però rimangono comunque in caricamento non potete fare le porcate cioè se uso Leviosa e cambio c'è ancora il è proprio lo slot che c'è al tempo di ricarica bravi che sennò erano un puttanaio bellino minchia è così pesante che non posso farlo saltare in aria attenzione le è bello ma quanta gente ma che cazzo è perché non perché non gli fanno danno ah perché ce l'ha invisibile figata devi capirlo quando lo colpisci beh è reducta questo guarda quella mi sa che è morta quella mi sa che è morta ragazzi ma scusate ma quanti cazzo siete ma che cazzo è no non lei però va bene comunque ok ah no è l'incantesimo singolo sono io stupido ragazzi quindi pietrificusto ma vieni qua e vedi di nunc a care poniamo fine alle sue sofferenze qualcun altro tu ho capito ma una volta che faccio expelliarmus lì non ha più la bacchetta ah ok sì figo eh me lo sono preso figata devo andare la riccia a fare quindi se stiamo combattendo vicino a un dirupo è la fine perché vola affanculo vecchia che bello scontro che è stato ma perché erano così tanti perché erano uno degli accampamenti fighi grossi bello 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 mi è piaciuto guardate quanti cazzo di loot guardate quante pozioni generanti avete capito perché non ti permettono di venderle perché se no quelli che te la vendono a 100 tu la puoi rivendere a 100 hai visto quanti soldi fai completo aristocratico così tutti i serpeverde no non serpente come si dice puro sangue ti prego passa di là che palle quanto forte un forzuere spizza spizza è bello come ci sia ogni tipologia di inimico c'è quello più piccolo e rapido che non c'ha scudi o cazzi c'è quello che ce l'ha invisibili c'è il boia che fa questi mega attacchi caricati però che se li counteri riesci a fare come posso dire riesci a ritorci contro l'incantesimo ci sono quelli a distanza figata 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 bello veramente bello però fatemi ricordare allora sopra c'ho questo sotto c'ho questo e di qua c'ho questo ok chi è? ah ciao ma chi è Nora Tread? allora raga io mi sono dimenticato qualcosa che abbiamo fatto chi è questa che stanno a nominare sempre? ma ma non il oh la statuina Gesù Cristo eh vabbè questo muori signorino ti ho tirato addosso anche la madonnina dell'ingoronata cosa c'è qui? ah c'è uno snazzino come ti sei incastrato scusa scusate hanno che cazzo? hanno incastrato ah no forse mi sa che con qualche esplosione ho fatto ho fatto qualcosa che non dovevo e si è buggato salve ok qui vedo casse perché non ti dai il check fino a quando non ti rubi tutte le casse misate al posto vabbè o finché non uccidiamo tutti c'è qualcuno che sta chiacchierando salve mica questa è proprio una setta non è un accampamento erbologia 2 questi penso che se ti fai tipo i setta apposta per farmare la roba diventi veramente fai delle porcate quella l'omora lì cosa serve domanda no ok depulso va usato va usato con furbizia per 10 secondi no questo era glacius scusi buonasera Venom come stai bello vabbè senza non c'ho lo sbatti mori ok si l'accampamento è fatto ah questi sono bracconieri i tuoi scompartiti sono ma che palle aspetta che magari abbiamo fatto abbastanza prove di merlino no eh e invece così così ti impari come stai da quanto come è andato il traslogo e tutto quanto come ti trovi lì torniamo da madame kogawa micchia quanto lontani siamo andati da hogwarts figa sì lo so è che il mio cervello legge la prima cosa che trovo tutto bene sono contento come ti trovi lì le persone sono belle sono tutti fantastici aspetta l'italia magari voglio usarli cavoli carnivori e dall'altro la tentacola oh ce l'ho aspetta questa usala ok la professoressa adesso non potrà uscire più da qui no meno male ottimo hai grande disciplina la saggezza è un boccino d'oro come si può dire e ti stai dimostrando un cercatore provetto esercitiamoci con arresto momentum è un incantesimo creato tra l'altro per impedire alla pluffa di spiantarsi a terra durante le partite di quindice pure hai eh gli angoli così mi mettono in crisi no meno male meno male adesso un po' di italia c'è anche negli altri paesi come essere malefici contro i prof sì questa adesso esce viene mangiata viva adesso momento rallenta i movimenti di nemici oggetti più grande il bersaglio minore sarà l'effetto ok allora 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 adesso momento è giallo lo mettiamo a sinistra ma perché ah e ti mettono i libri apposta si dovrebbe cadere per terra come una peragotta però va bene ok quindi abbiamo stop essenzialmente ma posso no oh sì no non posso che cazzo sta facendo quel signorino lì tutto bene si allena con la scopa luna di notte non riesci a salire sopra la scopa ma povera fa fin da che bello tutte queste cose guarda invece ma scusa ma davvero ma scusa ma chi me l'ha detto lui o oh guardali questi ballano per un sacco di posti della scuola bellini tanto di notte il cancello di Hogwarts è chiuso giustamente ah bene non sono così cattivo al massimo gli davo fuoco alla scopa ma dettagli penso che possiamo andare anche a fare ottieni una ma dove cazzo la prendo la mandragola è questo che non ho capito eh la guida pratica non mi aiuterà in questo momento la mappa dovrebbe rivelarsi utile eh se mi servono semi o piante posso visitare erbe essenziali e funghi fatali andiamo a erbe essenziali e funghi fatali cazzo vi devo dire penso sia Hogsmeade qual è il vecchio assolto la rapa magica fiera delle fiere pozioni jppin testa di porco tomi e pergamene che cazzo tre manici di scopo piazza steppi e figli scusate ma sono io che non sto capendo o mappa generale dettagli non non diciamo a meno che non ci sia qualche nelle altre città qualcosa del genere eh uh quante queste lì giù più su magari qua allora lì c'è anche una alla prova ti vorrei ah ok qua non posso zoomare male ah no ma sempre Hogsmeade giustamente mi sai dicevi ah ok minchia grazie dovevo fare un bello pizzo dovevo fare per adesso veramente ovunque vado ci sta roba aiute veramente veramente figa come cosa e mi sto apprezzando il fatto che il completismo non sia quel tipo di completismo fatto per tenerti attaccato tipo trova le 1500 piume di merda cioè sia molto ok ci sono gli enigmi le cosucce è vero che qua c'è l'anoflight zone vaffanculo pito a fuoco a tutti e dai hai il sonico sempre number one we are number one happy pipiri 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 ma perché c'è dove bè sano flight zone qua dentro no capito ok ma è spai scusa c'era ah ok perché si è caricato vabbè non ho sentito campanelle e già è un miracolo salve eh giustamente quasi tutte piante magiche questo grande albero dei rami sinuosi funge da sostegno per il negozio erbe essenziali e funghi fatali ok bellino un altro di questi specchi ce l'ho appresso no credo no scusi madonna mi dovrò abituare ancora tutti sti cazzo di tasti le sulla ciminiera del posto qui così ah esso si minchia ma si sta espandendo veramente la voce del fatto che siamo delle bestie di satana non non si chiedono che un giovane ragazzo sta sterminando persone quindi Grindelwald aveva ragione ti prego sali arrampicati ma ok sarà qua esatto si venghi signorini ah c'era il sentiero ma vaffanculo se c'è una direzione sbagliata io la piglio non ci sta niente da fare vai ci appala ok le ah ci sei anche tu qual'era questo signora lei non si preoccupa se io gli fotto in casa la roba eh perdonatemi è partito il dialetto posso rubare tutto pure qua cappa druidica mamma mia guardalo che bello sto zingaronato mamma mia salve signor salve oh salve chiedo scusa sono un po' agitata ho appena finito di sgridare delle piante perché spuntavano e mordivano ma è colpa mia non dovrei metterne più di quattro insieme a proposito mi chiamo Beatrice Green ma tu puoi chiamarmi madama Green benvenuto da erbe essenziali e funghi fatali non urtare le mandragole se non fossi per la continua richiesta di antidoti non dovrai tenerne così tante di queste piccolette non posso aiutarti con le maledizioni ma se ti hanno pietrificato allora sei nel posto giusto ma si ma hanno vabbè posso accedere al negozio? ok che cosa c'è in vendita? no io sono immune a tutto ok non neco l'ho chiamato non mi ricordo neanche però questo zingaro nel sangue nel senso che ce l'ha proprio nelle corde ah posso comprare eh vabbè ma vaffanculo ma mo compro la mandrago la te la uso vicino all'orecchio ti stanno e ti fotto tutto il negozio come la vedi? come la vedi? si si mo lo vendo perché prima devo fare il giro di di madonna eeeh sa madonna se mi divan dragola sono sempre felice cazzarola 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 ha già tutto oh qui c'è anche una robettina immischiata ok qui eh sarà pure di livello vendi ma fa comunque cacare cappello magico che non venderemo ovviamente questo sa non si può indossare questo si lo indossiamo guarda la rimani così tanto per quei due punti non mi frega niente ma allora che ne dici se ti mostro alcuni degli articoli disponibili si si ciao ciao la le tue cose saranno al sicuro come si è come quando in Baldur's Gate voi siete un ladro e letteralmente fottete tutto l'inventario al mercante e poi glielo rivendete oppure fottete tutto o comprare tutto dal mercante e vi rifuttete i soldi con cui avete comprato siamo finiti non posso no posso permettermi tutto fortunatamente ma vattene a cagare eh si poi dici perché sono ricchi coxmate senta mi serve una mandragola 500 dublo 500 dubloni e tutte le strade portino a Hogsmeade va bene signorino ok finito di dire cagate buonasera Fatal come sta è bello grazie per essere passato e ci vediamo domani tranquillo che domani ci sta si continua awakening senza delle delle cose eh si i prezzi hanno messo 1-0 extra e via con 45 di potenza e vabbè se la vi se la vi fammi identificare roba uh una tuba credo si chiamino così no questo è per il viso e danni inferti con c'è diffindo ahia diffindo è greve diffindo se non fosse di un colore di merda rispetto al mio mantellino questo sarebbe il mio sogno ma non vorrei che posso cambiare anche il colore delle cose ragazzi no eh no eh che palle è che non c'ho niente che ci si mette bene momento quando dovete uscire cazzarola eh no non c'è non c'è un colore che ci si avvicina ragazzi uno uno ma uno proprio di colore uno di colore uno di di numero e vabbè adesso niente mi piacciono queste cose un po' così pacchiane allora scendiamo un attimo qua giù sperando che le mandragole non ci mettano quattro ore a nascere perché è sempre quello il problema salve svuota e dove andragola quanto ci mette dieci minuti va bene mentre faremo altro ciappala 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 comunque che queste continuano a farmare all'infinito è una cosa che non ho capito cioè boh però ok cioè apprezzo perché almeno non ti rendono troppo grandoso il gioco grinsafico cavolo carnivoro ciappa tutto allora qua posso metterceli cavoli no va bene però ci posso mettere le mandragole mettiamo a fare un po' di mandragole che voglio usarli come robettine in combattimento qua ci mettiamo le mandragole allora aspettate fatemi togliere anche questa qua pensavo che fosse per forza da vaso medio invece no qua ci mettiamo una tentacola velenosa la fertilizziamo pure già che ci siamo ecco potevano mettere magari che quando stavi vicino a queste cose cioè invece di dover centrare per fertilizzarle magari spammavi cerchi o qualche altra roba vai fertilizza tutto cacaci su no un po' troppo un po' troppo un po' troppo scusate ciappa tutto ciappa là ciappa qua ciappa 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 pure qui e ce ne andiamo via che tanto prima un po' tumore si si non elimina eliminate quel cosetto la cosa di sharp ottieni usa una pozione dell'invisibilità ottieni usa una pozione del tuono contro dei nemici quindi gliela tiro in bocca fortissimo ma la vera domanda è io posso craftarle queste cose quella dell'invisibilità sì ma mi serve il rametto di centi centi nodi a caccoli di troll e i capelli di furungo saltellante e dominate un po' non ce l'ho e sono anche povero quindi non posso andare a comprare la ricetta evento di gare di scopa andiamo a fare questa cosa facciamo un po' di giuretti oggi è l'insegna dell'esplorazione del completismo delle robe che ci sta le andiamo di qui salve e tanto qua uno potrebbe fare anche tipo i film potrebbe andare dentro dentro sti cosi e fa sì questo è proprio primo film no secondo quando cacchio è miau eh dov'era io qua sarei un buon portiere vabbè ma era questa vabbè dobbiamo fare 1.32.08 vai madonna madonna ma quello davanti sono io e vabbè ho capito capito che c'ha c'ha il razzo in culo c'ha il razzo in culo quello davanti buoni 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 ma che cosa ma stai a fare la gara ma guarda la gara ma non ho capito ma che cazzo ti metti a guardare è come se mentre guidi ti metti a guardare i castelli ma che cazzo guarda buongiorno salve non lo riprendo tanto quello là davanti ragazzi madonna madonna ce l'ho fatta non ce l'hai fatta perché siamo ancora dietro al manichino lì ho missato tutte cose ma do ma do no non ce la facciamo no ma guarda che ho fatto peggio di prima ma vaffanculo eh sta calmo è andato dritto maledicto maledicto però non so ma si può velocizzare la velocità della scopa o no è questa la domanda ok ok qua è sempre questo ci riproveremo un'altra volta ancora allora lì giù vedo quest lì giù vedo quest andiamo a fare le quest si devi teletrasportarti andiamo a fare quest secondarie chissà se sbloccano anche quelle robe uniche o compagnia o compagnia e compagnia va bene ok allora dentro tutte tutte le casse sono tutte che bisogna fare gli zingari che è successo signorino io sembro un ambasciatore gli hanno fottuto il carretto bastardi ah vada che davro tanto che cos'è un artista perché vedo che è sporco di inchiostro o di pittura ho preso i miei carretti le mie cose persino i miei preziosi dipinti hai sorpreso ti arro gli occhi aperti mi dispiace davvero cercherò di trovare i tuoi carretti puoi starne certo molto gentile da parte tua ma credo li abbiano portati al loro accampamento sud ovest hai senza sapere niente però per guà qua te lo punta proprio sulla mappa comunque hanno un incanto che li fa tornare da me se ci separiamo per quanto le possibilità siano esili nutro la speranza che mi venga restituito parte di ciò che è stato preso è stato un piacere conoscerti non so se avrei preferito farlo vabbè non chiederò perché non sono esperto di harry potter però c'è nel senso ragazzi se possono tornare da te perché non capito no forse li tengono fermi là in qualche modo scaglia di nero delle ebridi il nero delle ebridi è un drago enorme che può superare i 9 metri di lunghezza è una grossa scaglia rovita appartenente a uno di questi esemplari è fra i più preziosi possedimenti di Archie Bicol o Biclio o come cazzo si dice il quale la conserva nel suo nascondio tra l'altro è partita pubblicità di nuovo grazie sempre per il support Twitch vaffanculo è un min è un'ora e 18 e tu hai fatto partire pubblicità tre o due volte una l'ho fatta partire io ma ok va bene questo quindi è il nascondio di qualcuno mi lascia una prova di Merlino poi la andiamo a fare cos'era? c'è un rumore brutto salve abbiamo la scoba le balestre addirittura figata perché sono goblin giustamente a lei il pezzo sia morto ma pochi mi sembrano oh che cazzo era? fighissimo praticamente c'ha lo stand c'hanno lo stand questi stronzi afferre rispedisci al mittento un'arma rallenta un assassino seguaci ok ah un assassino assassino come posso rimandargli un'arma indietro? ah perché me le tirano gli stronzi ok però con che posso fargliela con eh cazzo non l'avevo visto quello che è successo? tu stai calmo dov'è? ah eccolo minchia che te l'hai visto salve ma fai silenzio tappo maligno è lì che devi usare ah perché sono in combattimento mi sa ah ok però se usi altri incantesimi a resto momento se ne va a fanculo giustamente ah figa come cosa Ragn vero? grazie che mi dà questi consigli perché non ci penso certo devi devi avere un attimo diciamo un come posso dire i riflessi per fare una roba già prova e effettivamente facciamo i set i set di incantesimi però fatti in combo perché per esempio qua tu metti un confringo un leviosa per alzarli e che altro si potrebbe mettere un espelliarmus così per disarmarli per tirare a distanza per portarli via o per alzarli di qua arresto momento depulso sempre così mentre qua a destra si mette un po' di roba standard va bene così quindi di qua c'ho questa combina no però si può provare effettivamente è figa come cosa a meno che a un certo punto cioè continuo a ripetere a meno che tipo leviosa non serve per far proprio ste cose cioè per prendere oggettini alzarli quindi farci altre combo a compagnia a compagnia io ho i termini stasera vero italiano medio ok c'è roba da spiccicare pure qui ci sono delle palle in giro apri eeeh addirittura apri i carri ah no ma perché l'incantamento è che ok ok io pensavo fosse una smaterializzazione invece no è che lo seguono però se li chiudi giustamente no ok figata ritiro quel condetto sono uno stronzo sarò onesto dai 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 vienite palline a casa figo figo di qua ce n'è un'altra lì ci sono le palle venite qui no su bravo guardate un attimo che il mio monitor con cui vedo se la live è esplosa sta facendo un attimo le bizzette ok scusate stanno continuando le pubblicità ah vada che affilano le armi bello salve salvino sono topo gigio qui altro da fare non ce n'è è proprio un accampamento di quelli stronzi eh se preparano proprio una smazzola ok ma basta veramente c'è nient'altro ok va bene domanda io posso fare tipo ok meno male hanno fatto bene a fare che la maggior parte degli oggetti a meno che tu proprio non la miri non si illumina perché sennò col fatto che avete la mira quella assistita chiamiamola così avrebbe rotto non poco i maroni bravi 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 bentornati bentornati a tutti quelli che vedevano le pubblicità le altro va bene va bene va bene ma tanto poi in un accampamento di goblin e ho capito con che cazzo ti hanno legato lì volevo salire qua sopra che cosa serve quella scatola di merda tanto c'ho questo e mo si è spostata bastarda e quelli come li rubi non li rubi giustamente guarda con tutti i bagagli le cose torniamo dal nostro caro gnometto lì c'è anche una caverna nel mentre ne approfittiamo ci sono dei doggy c'erano dei doggy ci risiamo di nuovo fammi vedere si ok adesso è ripartita adesso è ripartita per bene riri bentornati per chi si sta vedendo la pasta e non sta accadendo un cazzo di quello che sta succedendo successi casini siamo di nuovo qui perdonate questo inciuscio che voi non avete idea di quanto cazzo mi dà fastidio veramente voi non non l'avete idea che cos'era questa roba prima che crashasse tutto tra l'altro fatemi favore così che non si sa mai ciao evil come stai bello benvenito benvenito ah era un che era un cuo non era una caverna cioè qua ci puoi venire quanto cavolo di pare tra l'altro lì ci sta una fiamma ma andiamo ma andiamo lì le questo prendi ok Gesù qua sta diventando inverno e cos'è ok valle di Hogwarts ovest sicuramente questa live sarà divisa in due sarà divisa in due ragazzi mi spiace tutte le live di Hogwarts legacy sono divise in due ci sta un cazzo da fare forse la terza tra 23 minuti è il tuo compleanno per caso evil o qualcos'altro no no ma quel pezzettino KLS non lo metto e basta cioè quel pezzettino così mini non lo metto perché è veramente cioè il nulla salve i carretti stanno tornando non so davvero che dire ormai avevo quasi perso la speranza di ritrovare le mie cose sto contento non è stato un problema sarebbe fantastico che bella idea ti auguro di riuscirci non vedo l'ora di iniziare grazie ancora per tutto ciò che hai fatto anzi mi sa sapete che comincerò a fa comincio mi sa che adesso le scarico e le riunisco perché mi dispiace che ci stanno sempre le doppie cose un posticino grazioso no no ragnar capisco no calmo calmo no sono contento sono contento io purtroppo me lo godo piano piano con voi live per ogni volta è veramente figo ogni volta è veramente veramente figo e come cazzo faccio sembra divertente l'immersione nel lago potrebbe essere una bella avventura spiegami meglio splendido proprio la risposta su cui contavo cosa hai bisogno di recuperare anni fa mio nonno che si riteneva un astronomo esperto salpò da Hogsmeade con mia nonna per quella che doveva essere una crociera per guardare le stelle non fecero ritorno mi dispiace tanto cosa gli è successo non è dato sapere sappiamo che nel loro nell'imbarcazione arrivarono arriva si pensa siano annegati entrambi mio padre è rimasto così segnato dall'evento che ci ha vietato persino di avvicinarci al lago nero è palesemente quasi ma perché si può notare i Hogwarts Legacy da quando e devo rifletterci mi sembra mi sembra troppo pericoloso soprattutto per un oggetto che ha solo un valore sentimentale capisco ma te ne sarei riconoscente a vita e poi potresti scoprire molto più dell'astrolabio se dovessi trovare altro rimarrebbe tutto a te ho incrociato le informazioni sull'ultimo avvistamento dell'imbarcazione la topografia del lago e i grafici di profondità la mia deduzione è che si trovi proprio laggiù a circa 200 metri dal molo vorrei tanto poter riavere l'astrolabio di mio nonno ma se ti dirò un ma se ti dirò un calcio in culo ma da quando ci possiamo immergere domanda di ergo tecnica per riavviare le Twitch non posso neanche per sciare un peggio e la madonna ben tornati a tutti quelli che si stavano a far so puttana mi dispiace che tra l'altro Twitch non è che non ho notato ho visto che hai fatto partire la pubblicità però la live me l'hai distrutta però la pubblicità te si ricordate di farla partire la pubblicità quella non manca mai non manca mai rimandavo che mi serve per una cosa e devi andare a Hogsmeade ci sta proprio l'ho fatto poco fa anch'io a nord di Hogsmeade ci sta un negozio che si chiama tipo funghi e altri cazzi essenzialmente lì si comprano tutte le robe tutti i semi e robe per l'erbologia bentornati a tutti quelli che purtroppo stavano facendo esplode sì ma da quando è che noi possiamo immergerci ah vabbè ma vaffangulo io pensavo che si nuotasse ma se io faccio così ok stanotte sarà ci sarà una piccola rivoluzione io mi porca puttana ragazzi mi metto mi riscarico tutte le live tutte me le riscarico e le rimonto sotto forma di una perché si risale oh è morto immagina adesso risale se l'hai mangiato il mostro del lago di hogwarts oh e porca puttana oddio tutte me stanno a capitare stasera ragazzi tutte ah no vabbè ci teletrasportiamo in boffangulo però oddio cristo no no eccoci qua eccoci qua alla fine via mo ci facciamo un'altra uretta e via si facciamo prima secondo me c'è figlio di sto candelabro ho seguito le tue indicazioni e mi sono immerso nel lago nero oh incredibile hai trovato l'astrolabio si si eccolo ma perché devo essere devo far il figlio di puttana mo spiegate chissà che faccia farà grazie mille per ciò che hai fatto per me e la mia famiglia faresti meglio individuare altre località dove immergerti ah questo era il tutorial che puoi cercare in mezzo all'acqua infatti avevo visto ci stavano altri punti ok si si che è successo alla mappa ah bello ci ho fatto caso adesso che c'è tutto questo pulviscolo perché è la mappa che sta nella stanza delle mappe giustamente andiamo un attimo ad Hogwarts perché adesso si saranno fatte le cose le nostre rubettine salve poi il gioco si sta rompendo ragazzi oh che bella cavolo mia ciappa 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 cavolo carnivolo cinese oh 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 facciamo un giro ok fammi vedere l1 ma che bella ma che figa tanto c'è una quest qui che cosa dolce di sendium e magi formula di evocazione e oro parla con gareth weasley ah ok però vorrei andare a vedere fuori visto che siamo sempre stati ad Hogwarts vorrei un attimo girare il mondo alla ricerca delle strabilianti avventure qui c'è una quest no è una metropolvere che tanto posso zoomare ah minchia se zoomi ti fa vedere anche più roba porca Eva porca Eva allora giù ci sta dando dal professore non voglio andarci per ora non ci sono mi sa che non ci sono secondarie almeno qui dove erano erano ah erano qua eccole e che caricamenti comunque sono una spada cioè sono veloce grazie al cazzo visto che siamo su pc con l'ssd voi direte però sì io no io tipo ho fatto come una una bestia ho fatto come una bestia perché tanto da quel che ho visto cioè la la pietra di luna là come cavolo si chiama puoi farmarla letteralmente sarebbe già dovuto tornare sarà stato preso dai maghi oscuri poi c'è il metro la dei sims che ti dice ok oltre questo non puoi mettere roba ma per adesso è veramente tanto basso perché penso calcoli anche le decorazioni che bellina certo questo è l'abito perfetto pezza pavigne cazzo io stessa l'ho visto vicino a delle rovine con gli uomini di rucut beh soprattutto se ha fatto loro una promessa che non può mantenere che tanto il nome della banda non è neanche a caso perché gli Ash Wind sono quelle bestie che si riproducono a stecca potrei cercarlo io ogni aiuto è ben accetto per prima cosa parla con Claire forse ha indizi che potrebbero esserti utili quello che posso dirti è che Bardolph è stato visto l'ultima volta nella foresta con un maglione fatto ai ferri da Claire ok ah poi va bene se poi intendi come ho ottenuto gli altri tipi dei tavoli e compagni evil ci sta il negozio sempre Hogsmeade delle magi formule che c'ha un un simbolo di una pergamena che ti vende i progetti quelli base almeno intanto fa zappare Yelp giustamente tu dici che bello il tramonto cabelo andiamo corri corri che voglio usare una bellissima mandragola sui nemici ah sono inferius questi ok non ci avevo fatto caso che torre di morte giustamente a loro non gli frega niente se gli assordite devo fare la combo prima poi ti faccio tutte cose a cacca cacare devo fare la combo datemi un attimo ah è stato trasformato in inferio oh ma che cazzo ma quanti siete calmi spawni è vero che devo darvi fuoco a voi prima e vai a caccare madonna gli attacchi rossi comunque ti tolgono quanta quanta vita e anche oggi si eredita il sistema io mi devo abituare ancora sinceramente perché cioè sulla carta è molto easy però vedete in questo caso loro vengono proprio boom boom ed è una roba strana non so perché guarda che bellini ah facciamo piano piano una alla volta bisogna menarli questi ho capito ecco vedete quello da dove cazzo è apparsa c'è una volta che giocate anche un pelino più difensivi la difesa diventa molto più easy eh che cazzo dovevo parare ho fatto confringo va bene va bene va bene va bene è successo qualcosa ho il trauma stasera ragazzi dopo quello che è successo sto sempre a guardare della esatto devi sempre tenere un occhietto sulla capoccia perché poi c'è il fatto che tu dici ok io magari mi sono messo bene di posizione però hanno come un po' soffrono tutti i giochi che hanno questo tipo di stile di sistema di combattimento che i nemici hanno una quantità di tracking inverosimile che se capisce sinceramente perché se tu fai una roba del genere capisco che magari soprattutto in un gioco dove noi siamo prettamente ranged rischi di fare il puttanaio però mi destabilizza almeno a me personalmente pagina diario 01 di 02 voglio aver paura ma non posso più tornare indietro fino a sono riuscito a patoreggiare due delle maledizioni ma devo sottostare i loro ordini se voglio impararne altre non devono vedere che sono spaventato li sento già bisbigliare alle mie spalle mi hanno sempre detto che non c'è da fidarsi dei maghi oscuri ma non posso fermarmi almeno finché non avrò abbastanza magia da proteggere me clear è tutto upper osfield ok va bene sarà nella caverna qua sotto è esatto perché col fatto che noi siamo tipo sai mega distance siamo delle bestie di satramaghi se ci mettono anche che non c'hanno un minimo di tracking alla fine atto ci sta anche un annuncio time da parte nico mi sa vedete la pubblicità di un tot di video per colpa mia se l'avete abbonamento non compare iso fa tutto insieme nego fa sia lo spam dell'amazon prime che della pubblicità stasera ce ne sono state veramente troppe qua dentro no no ok una statua della madonnina che bella uniforme scolastica con pullover dentro una cripta vabbè non giudico eh che te depulsi cazzo che te bene che bello ma che cazzo sta succedendo stasera oh bunny madonna sono diventato una calamita per i bug eh ma perché ne hanno fatti pochi ma che stanno un po' ovunque poi non so se magari vanno anche col livello cioè tu magari più sali più diventano me cojonibus mai dire mai dove cazzo era devo far cadere quella roba lì ma ci vuole depulso che cazzo giro ce l'ho a sto giro ce l'ho eh ma devo aspetta posso pure fare no madonna ma voi siete dei pezzi era lì no sì ma prima tocca dagli fuoco cheat seconda guerra mondiale sta cercando in tutti i modi di entrare dentro a sta cosa sta palla ma dice no torca putta la bana la bana la bana vai ok so beee pelo pelo sono un passo rosso evil bentornati a chi si vedeva le pubblicità allora stasera allora proprio pubblicamente mi scuso e vi ringrazio un mondo perché siamo comunque dieci mi dispiace che sia stato il puttanaio ci sono state un fottio di pubblicità avremo fatto due ore e mezzo di live neanche penso ci siano state più o meno venti pubblicità quindi siete dieci ma siete dei cazzo di eroi siete dei cazzo di eroi porca troia stasera a tutte stasera a tutte cavolo vado con il mio robettino ti piglierai una febbre sicuro zio stando tutto bagnato sopra la scopa che voli però che cos'è lì cos'è quel simbolo sono gli inferiore no cos'è fai a levitare un dukebog che cazzo sono ai ok vabbè poi ci veniamo fai a levitare un dukebog dalla lingua cazzo di ma che cazzo vuol dire signora eccomi allora sta là dentro adesso ci andiamo prima la dobbiamo rubare tutto spero sinceramente che vadano con il livello di equipaggiamenti perché cioè se non fosse così potevano tranquillamente aggiungere magari piccoli cambiamenti di colore piuttosto zucca fix la zucca fix è una popolarissima bevanda gassosa al gusto di zucca mamma mia non raggiunge certo la fama della burro birra ma staremo a vedere ah ok diciamo che cerca di di fare un avversario della burro birra quanta roba da rubare roba da rubare occhiali a mezza montatura in argento vabbè ma devo far veramente esplodare roba dentro la burro birra che se per sbaglio ci sta veramente dell'alcol dentro la roba avviene facciamo una bomba atomica che cosa è successo lì ci sta qualcosa da rompere forse perché dovrei far cadere qualcosa boh così perché per far fio di puttana cioè essenzialmente ok se noi vogliamo davanti ai signorini ci dicono ah ma sei proprio bravo no no ho fatto il test cioè a me personalmente mi è sempre piaciuto basso rosso poi però ho fatto il test ok mi prenderò quella che mi ha dato e basta qui c'è altre ma guarda quanta roba ti vogliono far diventare proprio cattivo ma proprio cattivo cattivo perché dovrebbe esserci una quest qui oh foresta come devo leggere la sta cosa di notte perché c'è la luna c'è un cazzo di boschetto di merda cioè non so con una vicino alla metro polvere c'è un ponte usa l'humos o tramite la magia accendi delle candele una mappa capito un cazzo ma era lei Claire perché non ci ho parlato qua quindi non pensavo di no sto stupido signora credo di avere notizie di suo fratello è morto che cos'è sto sto rumore è in game proprio pensa perché sento due musiche insieme mi si era sciolto il cervello temo sia morto mi vuole dirglielo ma Bardol era stato trasformato in un inferius e ho dovuto ucciderlo cosa come puoi anche solo pensare che quell'inferius fosse mio fratello Bardol beh non credo che gli inferius si scelgano gli abiti buonanotte liquid che se fosse stato con noi bello eh ho capito raga glielo c'è mi dispiace molto avrei voluto portarle notizie mi auguro ogni bene cos'altro avrei potuto fare ma perché c'è questa musica ok era solo per questo pezzetto così buonanotte 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 però i seguaci e lo so che io gli ho appena detto che ho ammazzato il fratello però che gli dovuti che si era fatta la nuova vita e non l'avrebbe mentirgli piuttosto gli dai pom pizzettone e che snap back to reality che cavolo non ho potuto fare a meno di sentire ha menzionato i seguaci di run rock si perdonami non me la passo molto bene dal nostro ultimo incontro oh bello però che c'è il dialogo bello penso sia per il fratello sta frase vado io ma come ho ammazzato tu fratello potrei cacciarli via io eh sta già meglio si è passata subito sparo vada che davvero dal culo io questo sai che capita sta antifona vado vado no ho sbagliato sbagliato via era dall'altra parte totalmente ma qua sopra c'è della roba dove ho il terrore ragazzi ho il terrore sotto l'albero nessuno è perfetto ah ma siete voi allora prima vado a ferrare a rispedire un'arma oh stupidi parca parca trai su a cuccia ok dove è andato vai ah ce ne son due a lei buono ah beh ma perché spawnano giustamente guarda che cadono come i mangiamorte ah è vero c'ho questa ah ah a lei bastardo lo sapete che faccio pure evoco l'arma definitiva i cavoli quanti ne posso spona vai urtanzi il combattimento scusate no troppo 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 bravissimo il mio esercito di cavoli il mio esercito di cavoletti io mi apro il culo con i cavoli minchè comunque sono bestie di satana si così ragazzi sono bestie di satana salvi cavolo 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 guarda i cavoletti bestie sataniche dove cazzo è andato quell'arte cosa c'entrano le verdure in battaglia è che i cavoletti sono più forti dei mangiamorte palesemente no ho sbagliato la combo come al solito mi devo ancora abituare le no che cazzo ho fatto ho sbagliato si è buggato questo signorino credo di si cazzo mi ha colpito via non si fermano eh tirate le botte in bocca non gliene frega niente eh no de pulso bisogna usarlo veramente si conta cazzo era successo si rimangono in balia di tutto il repertorio il repertorio vabbè questo è il primo accampamento dove siamo venuti il primo accampamento poi in realtà mi dimentico che c'ho sta cosa la prima zona dove siamo venuti quando esploravamo ma io non ho capito ma la ah ok si in esplorazione la barra per lo scatto è ah solo se stai troppo alto ok ok ciao signorino ci rivediamo venga ma ogni volta c'hai uno strumento extra eh si adesso c'ha che cos'era il mandolino tipo ciao buongiorno madama Beaumont buone notizie ho sgomberato l'accampamento di Runrock davvero ma come hai fatto eh le ho presi di sorpresa se solo mio fratello fosse riuscito in tale impresa forse sarebbe ancora qui con me ti sono molto grata hai fatto per Bardolf ciò che io non ho potuto hai salvato il borgo mio giovane amico non lo dimenticheremo ora sono in pensiero ti ho ucciso il fratello però ok si tra l'altro sono stati i cavoletti mica io ricordiamo posso vedere la sua mercanzia eh adesso la signora no scherza che cosa vendi ah vendi i materiali ok andiamo dalla professoressa l'allium andiamo dalla prof andiamo a fare lezione con la signorina Hogwarts credo che possiamo fare eh si le che cos'è questo una stanza misteriosa sotto il reparto ah ok quella dove siamo stati la volta scorsa ok eh eh beh potevano mettercela anche una puzzetta che te lo faceva fare direttamente da qua madonna bestia satanica si comunque gli studenti sono proprio quelli bello perché ti fanno affezionare facendo così che bello rivederti ho completato i miei incarichi professoressa ne sono molto lieta e lo sarà anche la Weasley vabbè mi assicurerò di farle sapere che stai migliorando molto meno male la professoressa ti ha già insegnato Levioso ora puoi apprendere un incantesimo di levitazione più avanzato Wingardium Leviosa richiede un po' di concentrazione e un movimento di bacchetta aggraziato vediamo come te la cavi va bene se lo esegui correttamente potrai sollevare macini come se fossero rametti di starnutaria che tra l'altro è agitare e colpire è il movimento effettivamente non ci ho pensato è proprio uguale figo e se il livello permette di farle evitare e spostare ah si è quello preciso ok ci avevo preso ok controllare la posizione con i tuoi movimenti usa su giù destra sinse per regolare la distanza e la rotazione ok ok si vede che magari è per degli indovina che cosa ho fatto per degli indovinaelli che richiedono un po' più di grazia ma infatti è uno di questi blu quindi non serve per il fight no 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 Ragnar madò madò ok voi non avete idea il mio cervello perché allora con la telecamera fate con destra e sinistra e compagnia con avanti cioè no ok come si con sopra e sotto sale scende con le freccette e fate fate l'altro asse madonna il mio cervello ha fatto fortissimo qua ci abbiamo un vaso tra l'altro però ci proviamo sulla con non credo si possa fare non credo si possa fare pippi anche se ho visto un mod di gente che spara chiamata che dava la scuola quindi ok vediamo ci sono altre missioni prendiamo tutti gli incantesimini le chiavi di dedaro se io la seleziono posso vedermi tutte le cose buonanotte figli ragazzi per essere stato con noi alla prossima alla prossima buona scuola per domani se io seleziono ok non me le fa trovare per la mappa ci sta ci sta carico il professore c'è una pozione ah ecco questo mi servono i soldi purtroppo quindi ci dobbiamo andare a fare un giro hogsmade perché bisogna vendere la roba e via penso se c'è un modo tipo per farmare soldi o compagni ma penso sia semplicemente andare a seccare nemici penso sia semplicemente andare a seccare nemici poi andare avanti con la no penso che la mia storia posso farla e basta l'unico credo diciamo requisito ma penso sia requisito di realtà di livello e che se sono troppo forti ti aprono magari mi son perso buon compleanno evil vero non ci fa toccato adesso buon compleanno bello te lo stai passando qui domani si smangiucchi a torta intanto c'è una missione torta tutte cose buon compleanno buon compleanno corri di qua bastardo pip 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 vai 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 micchia quanta gente guardati intorno con calma si ah no è vero no me ne frega niente dei libri c'è uso sopra incendio qua fammi vedere come al solito visto che siamo in quella parte di no questi non credo che niente superi la bombetta mistica cominciamo a sbocare la prima roba con le gemme incorporate meno male vendiamo tutto vendiamo ma è di che ma tranquillo anzi mi raccomando goditelo andate a smangiucchiare dolce e compagnia micchia roba leggendaria la roba leggendaria praticamente serve per essere venduta a un certo punto vai vai allora in realtà mi sono venuto qua perché volevo spendere i soldi da lui ma mi sono appena reso conto che ci servono le ricette prima di tutto le ricette le ricette ma dato vi posso fare questo per andare più veloce no dopo due minuti vi faccio prendere mi sa un colpo ragazzi quindi quindi meglio che non lo faccia pippin dovrebbe essere di qua eccolo qui salve ah non posso entrare sono conti mamma mia va porca puttana però raga eh ma vaffanculo a te ha saggia decisione di mortacci tua un romano hogsmade si chiamerà questo pezzo di trava ragazzi Gesù quanto devono costare le robe ma sono tutti cari sono tutti veramente perché questi sono proprio i primi momenti in cui ti dicono per forzarti a esplorare tra virgolettoni ti fanno ste cose ah ok the three broomstick i tre manici di scope che tanto ho scoperto che sinceramente a me mi fregava niente ma tant'è che la signorina del bar è tipo uno dei personaggi credo il primo compagnia dei personaggi trans non ci avevo fatto minimamente caso io ma zero proprio ci avrei detto tutto ma perché quello però vado a sapesse salve ma perché io dovrei salire qua sopra io sto continuando a salire ma io perché devo aprire ma non posso cacciare un cazzo di vabbè di esplosione atomica e vaffanculo c'ho l'incantesimo esplosivo e devo aprirle con alomor vero vero anche quello però vedi che là ti ripeto anche come questa del manico di tre manici di scopa non è puntualizzato però è figo di background che ci sia infatti ho apprezzato sinceramente ah eccolo era qua che suonava mortacci tua attualmente gestito da Sirona Ryan e presumibilmente vecchio quanto Hogsmeade i tre manici di scopa e il mitico punto di trovo degli abitanti del villaggio e degli studenti di Hogwarts che desiderano godersi una bevanda dalla burro birra al whisky incendiario che già il whisky è una cosa che quando cacci giù fai delle fiammate immagina se è pur incendiario e fai bene meno male so che è una sciocchezza ma sarei davvero curiosa di sapere dove vanno le farfalle nella foresta non è che potresti scoprirlo per me vuole che segua sono Cristo cosa è successo non più ero per un attimo mi ero elevato a divinità d'accordo se avrò tempo vedrò dove mi guidano ma che cazzo gli studenti di oggi hanno più coraggio di quanto ne avessi io di solito mi trovi qui nei paraggi spero di rivederti presto va bene segui le farfalle tra l'altro è una foresta oscura quale wink wink ok tra l'altro non posso usare la scopa corri corri come uno stronz che bella la fisica della sciarpa carina ma stai uscendo non stai arrivando ma basta mettere sempre le stesse frasi per favore sapete che lo dirò sempre lo farò sempre questo verso quando partiamo devo stare ancora più basso eh si più basso ancora è infinito mi sa che il potenziamento sarà per questo che peraltro aspetta le alberi i rami tutto ma perché se le dovrebbe essere inventate su farfalle mica ti ha detto che ha visto un cazzo di eh si è proprio fatta dalla cosa di tu stai tranquillo che ti sparo una vada che davra è fatto proprio per quello che dice Ron sentato questo era l'altro tutorial per le farfalle ok io sto sopra un cavallo più che una scopa sapete quando state con le macchine e cominciate a derapare fortissimo ok ma raga ma quella è la solita cosa è che la gente nel bene o nel male dovrà sempre trovare qualcosa per rompere i coglioni e basta cioè è questa la triste realtà ma basta di pensare che voi stessi potete farlo cioè voi potete fare un personaggio che esteticamente è un maschio o una donna e si sente dell'altro scepe si fa chiamare con l'altro eh ti piacerebbe imparare il flipendo l'incantesimo respingente una volta che avrai completato gli incarichi necessari raggiungimi nella serra scusa perché ci sono tre persone buggate nella foresta oscura che camminano all'indietro sopra un dirupo cioè lasciamo perdere il bug ma perché stanno qua dei 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 ma poi signora lei dove è andata oh dove è andata quella che stava camminando signora ma che cazzo ma porca puttana non ricordo neanche che stavo a dire ma stannato così una flashbang parca troia parca troia tanto grazie che sono ripartiti altri bugganti cazzo grazie per il support queste sono fine bentornati io aumenterò ancora di più il divarico ragazzi lo metterò un'ora e mezza un'ora e venti mi dispiace ma perché voi dovreste stare qua ma ma porca puttana vabbè andiamo via andiamo via ragazzi io non ho parole ah qua ci sta uno di questi so riconoscere una prova di merlino quando vedo e qua serve qualcosa per accendere quello che non ho idea con fringo no era glacius oh signor ma che cazzo ci fa ma sulle schere l'invio bene oggi ma che ma io allora oggi sta succede di tutto ragazzi comunque sta succede veramente di tutto si è rotto qualcosa cioè quando è crashata la live in realtà si è rotto qualcosa anche dentro al gioco perché se non si spiega ma è spumonata si proprio là così brutalmente salve dove corre signora che è successo è in ritardo anch'io tutte le strade portino a Hogsmeade andiamo ai tre manici di scopa buongiorno oh ti prego dimmi che hai scoperto dove vanno le farfalle salve signora sì vanna allora come è andata le hai trovate sì la ricompensa non è stata niente male che belli però i volti no stai lontana dalla foresta cerca le altrufe le farfalle ma che cazzo c'avete in testa io perché c'ho il plot armor completa missioni secondaria 10 su 10 oh abbiamo fatto anche una sfida attenzione ma tanto prima mi ha scritto l'allium mi ha mandato tipo gli sms ma vediamo mantello dello studente provetto ok bello però che ti invogliano con delle ricompense bello bello ha le farfalle in testa sì ma col cacchio che farei una roba del genere ok va bene combattimento no già l'ho fatto missioni ho fatto qualcosa già l'avevo fatto e sono passato nelle stesse cose che ho visto un attimo fa ragazzi lo so che sono sono scemo ma scusa già abbiamo finito quasi la pagina della guida pratica ma non è possibile ma no ma come collezioni che cosa sono delle robettine io niente perché sono una persona sono una persona buona se può sai com'è cerca di evitare lo stupro oddio mi sono dimenticato dove cazzo era questa cosa ragazzi in che città di mi chiamarono mi chiamarono dimenticato che dovevo muovere questa roba mi sa che stava dove era l'auror ve porca cazzo mi sa di si dai qua però figata c'è una cosa che è molto figa che quando ci sono tante icone nella stessa zona se voi mettete l'indicatore ve le sparpaglia per farvi capire questa è una cosa veramente figa perché quante volte capita che ci stanno icone su icone voi non potete fare un cazzo veramente figo la secondaria della mappa ce l'ho da un sacco ma non capisco come farla e penso che devi trovare un punto specifico allora intanto c'è un avviso cos'è attenzione pericolo dukebog usare cautela allora quel pezzetto di fango che io ho preso fammelo rivedere perché ogni volta me lo dimentico oggettoni ok no non è questo allora dalla passaporta allora ci sta la città passaporta alberi penso bisogna stare di notte dal ponte bisogna accendere qualche cazzo ho letto bene era questo il senso del biglietto quindi andiamo di notte ciao allora vicino alla foresta stai calmo ci deve essere un sì sì allora mi serve un ponte questo è un fiume sì quindi il ponte è questo crito no il ponte non è questo mango per il ciollo seguiamo il fiume che ci sarà un altro ponte sicuramente da qualche parte magari il ponte è questo no perché non è un ponte il ponte magari è questo no perché era un ponte di pietra vero seguiamo ancora il fiume perché se no è dall'altra parte ragazzi è stata una craniata no era dall'altra parte no il ponte di pietra è questo perché se continuo di qua c'è la foresta ok però non mi sembra oppure il ponte di pietra è questo effettivamente perché ci dovrebbe essere la città la foresta eh madonna capito ma che ma che community ci abbiamo su quest legacy gli appustamenti per trovare quella povera qualscona però c'era scritto anche che dovevo usare l'humos no ma di qua non c'ha senso c'era una foresta la luna era vicina alla città o era un incantesimo di fuoco perché ah no che è semplicemente l'incantesimo che fa un puttanaio di rumore queste rocce hanno visto giorni migliori queste queste rocce hanno visto giorni migliori va bene signore va bene signorino ci abbiamo una foresta un ponte con la magia tocca accendere delle candele e una passaporta e la città dipende se quella città schifosa e unta è questa che cosa è quello nemico famigerato astuto e formidabile sappiamo cosa fare dopo sperando che non sia Hogsmeade perché potrebbe essere anche Hogsmeade magari è il però no vicino a Hogsmeade non ci sono foreste con cosi quindi è per forza qui che bisogna accendere qualcosa vicino a un ponte e tra l'altro c'è teneria da sta pure la passaporta scusate mi è partito di nuovo il dialetto ci dovrebbe essere anche la passaporta vicino ma domanda la passaporta è veramente questa no perché sì no perché ci sono i cartelli e le cose dietro c'è la città davanti c'è la la foresta e deve essere questo per forza vaffanculo magari che cosa fa parkour signorino ma che te con fringo no di nuovo incendio no non ho idea non ho idea cioè non mi suona di persona che conosco per adesso ragazzi sono stupido ammetto che sono stupido e non capisco che è successo ah perché c'ho volato con la scopa in mezzo missione esplora la torre prepara la ricerca del prossimo custode ok incarico della professoressa incarico del professor sharp la mappa mostra una foresta un punto e delle candele l'ho messa in bordo nel caso voglio consultarla usa la mappa con candele volteggianti per trovare il tesoro foresta ponte e candele foresta ponte e candele io non vedo cazzo di candele a meno che non debbano essere delle candele volanti la foresta la foresta ponte foresta per quanto questa possa essere una foresta e candele i candele e di qua niente ah ma ma intendevi quello evil io pensavo parlassi della doppiatrice si è la capocina della signora io pure all'inizio ogni volta facevo che cazzo e poi me ne accorgevo ponte questa si può calcolare come foresta magari nella foresta c'è qualcosa perché lo sapete come io mi impunto su queste cose poi io sto da ripeto per scontato che sia qua ma magari non è qua ma comunque andiamo ad affrontare il nemico formidabile eccolo c'ha il teschietto pure sulla mappa e vabbè chi è Aragog chi è chi è chi è ah beh ma sono questi no ah perché sono del livello 25 vabbè dai non è infattibile non è infattibile che posso farci con la lingua e la avangu madonna signorino tutto bene no vedi c'è c'è quando c'è il cerchietto normale significa che voi potete usare contro quel bersaglio un controincantesimo però però devo capirlo danneggi forse col congelamento eh vabbè quanti cazzo siete eh sì perché è la lingua fai levioso quando fa la lingua di fuori ok levioso eh dovevo farlo prima leppa oh non lo faccio sempre tardi ma che che eh buoni il support da parte delle biante buoni cazzo sta a fa si è buggato no a fan cool allora fammi vedere no bagliato mamma mia eh sì ok appena proprio istantaneamente non è al ritmo appena vedete quel cerchietto dovete farlo che figa sta cosa questo è molto buono come tutorial perché io pensavo che doveva essere tipo con un giusto tempismo ma magari pure quando vi tirano gli oggetti voi potete fa depulso e glielo risparate in faccia ah ma erano questi i nemici ah ok vabbè ehm ci siamo fatti un'altra ora di live quindi io direi di andare quanti aspetta prima di tutto quanti soldi ci abbiamo ok c'è roba nuova non sembra andiamo a vendere la roba compriamo le nuove skill da parte le skill le nuove ricette da pippin e andiamo e andiamo un attimo nella stanza delle necessità e per adesso finiamo poi insomma attenzione ha detto una frase differente salva c'è un buon senso dell'orientamento ma qua proprio niente sono contento dammi la costa 800 spero di rivedere c'è qua aspetta vediamo se ci sta qualcosa da ruba vediamo rapida eh la bisogna sbloccar bisogna sbloccar bisogna quante serrature ha Oxmade giustamente sapete ci abita la gente c'è qualcosa da ruba una cassa di quelle che da 500 monete che so buone come l'oro questi pari contengono burro birra più amata da maghi e steak il vito ambrato viene servito sia caldo che freddo e un basso contenuto alcolico che sembra avere molto più effetto sugli elfi domestici che sugli umani mi serve una cassa di merda mi serve una di quelle con l'occhietto magari lì non ci posso entrare niente rip andiamo ad Hogwarts prossima volta ci facciamo le main quest andiamo nella stanza delle necessità però devo vedere se c'è un modo magari per fare qualche soldino perché siamo sempre con le pezze cavolo non devo fare niente stai tranquillo stavo facendo un check dubito che rompe i coglioni anche perché per fare quella dove è massima tuono frutto di grinsa fico e la vera domanda adesso sussiste noi ci abbiamo la grinsa fico ah sì ok ok raccogliamo tutte cose e prossima volta credo che mi farò un esercito di mandragole ma proprio a sticca ragazzi insomma di piantine cavoli non cavoli e cazzi e mazzi vari e devo vedere però per i soldi devo vedere perché cioè se so che magari ci sta vai a shottare roba in giro a cazzo magari mi metto a a shottare un po' de roba perché siamo sempre veramente a corto dei soldi io per prendere dei soldi era for roba da tutti i baulli che trovo e ma lo sai che a un certo punto vanno a finire pure quelli quindi è un problema che hanno avuto in tanti la mancanza dei soldi e sto a notare ma perché succede in ogni live se ci fate caso perché io capisco che loro lo puoi sovrascrivere ok che loro andiamo un attimo in be right back no in be right back in chiusura eccoci qua cioè che loro lo lo hanno fatto per forzarti a per forzarti ad andare in esplorazione cioè loro l'hanno fatto per quello l'hanno fatto che tu a un certo punto se no potresti tipo finirti il gioco in un attimo no pure nelle quest di perallium e compagnia mentre lo fanno così perché tu vai a esplorare vai a ammazzare la roba vai a prendere i droppini quello che c'hai extra lo vendi insomma meccanica da gdr però è un peccato perché noi ogni live stavamo a corto di soldi ma anche perché poi cioè tu puoi vendere soltanto gli equipaggiamenti non è che puoi dire tipo ok mi metto a uccidere un po' di mostri farmo un po' di piante crafto le pozioni vendo le pozioni vendo le mandragole anche perché i venditori me le vendono a 500 a mandragola 500 perché così tanto e invece i soldi tu li fai o con le ceste quelle con l'occhio che contengono per adesso ho visto sempre solo 500 monete 500 dobloni insomma soldini e con gli equip non c'hai altre cose è un peccato che poi si possono vendere solo i vestiti quindi manca a dire che puoi vendere i materiali esatto proprio la stessa cosa che stava a dire adesso quindi cioè mo vedrò cioè se se si possono far micchiare soldi magari vado a fare quei due tre posti che conosciamo che abbiamo esplorato oggi smazzuolo sempre se risponde alla roba perché io per adesso ancora non ho testato se risponde alla roba però ci siamo fatti un giro la nella foresta proibita e c'erano i ragni che abbiamo killato la volta scorsa quindi credo rispondi la roba se rispona vai cioè si va proprio di farming io che vado lì smazzuolo tutti le legnate vaffanculo e per la prossima volta ci saranno le cose che ci servono insomma anche perché mi sembra molto secco ma neanche secondo mi sembra molto terziario l'oro diventa primario soltanto quando tipo cioè io per adesso cioè l'unica cosa che veramente ancora non ho capito ma credo che si farà con gli animali magici sono i materiali dei mostri cioè i materiali dei mostri almeno la maggior parte tipo sono quelli che mancano perché giustamente devi andargli a cacciare compagnia ma magari poi potrai risolvere quando ci avrai gli animali che puoi fare la fattoria insomma no spero che non li debba uccidere ma che li droppi in ogni tot però vedi le monete diventano primarie soltanto quando dovete andare a comprare qualche cosa specifico le magiformule gli abiti però è un po' così io so 4.000 euro ho già comprato sia la ricetta del tono che quella dell'invisibilità perché sono messo abbastanza sono contento perché sai quel fatto è che col fatto che anche magari noi lo stiamo giocando in live non c'è tutta quella cosa del ok vado a esplorare cioè ci sta quel buon bilanciamento tra intrattenimento gameplay trama principale questine secondare quindi magari sono io pure che non sono andato a fare troppi giri e rigiri quindi farming simulato diventa ma guarda in realtà tutto è automatizzato cioè quando ho visto le piante le pozioni e le cose avevo paura che potesse diventare una roba del genere perché 10 minuti a pianta sono tanti però quando ti fanno mettere 18 banconi le pozioni le fai in 30 secondi e compagnia hanno evitato di mettere magari un minuto alle piante giusto perché se no tu diventa cioè diventi veramente tu puoi aprirlo tu il negozio di orbologia cioè quella là va in bancarotta se noi apriamo un negozio la hogsmade ragazzi perché possiamo vendere mandragole e bulbetti cazzi possiamo far di tutto hanno evitato giusto di mettere un minuto perché se no il player si metteva lì fermo spammava un fottio di roba perché poi c'hai pure e questa è la cosa che apprezzo il fatto che tu c'hai il fertilizzante quindi non devi comprartelo per forza c'hai la macchina che crea i cristalli quindi non devi andare come uno stronza in giro a cercarli e i pianti di terbiologia e cose delle pozioni penso che più avanti ci avremo anche altre cose più avanti sbloccheremo appunto gli animali magici che non vedo l'ora perché cazzo voglio tamare roba voglio quindi ok cioè per adesso se dovessi dare un problema al gioco è sotto il punto di vista tecnico perché 22 ok tutto ad ultra ok con l'RTX ma 22 gigabyte di RAM non lo può occupare no non no non sta non sta né in cielo né in terra perché se tu tra le consigliate mi metti 16 gigabyte di RAM 16 gigabyte di RAM devono essere non io capisco tu dici l'RTX richiede molta più memoria tutto quel che cazzo che vuoi ma cioè io mi immagino una persona con un computer normale ragazzi ma io non è che ho il computer definitivo della NASA però una 3080 un i7 di ultima generazione 32 gigabyte di RAM l'SSD ok che stiamo in live però no cioè io i problemi che ho trovato fino ad adesso sono stati sotto il punto di vista tecnico e basta è un po' di performance del merda e e compagnia ma quello non è niente che non si possa risolvere con patch poi sempre sotto il punto di vista PC perché penso che su console almeno per quanto riguarda le performance va tranquillamente nel senso cioè è fatto per quello caccarola cazzarola anche se ho paura di cosa potrà essere su Switch su Switch ho veramente paura perché cazzo perché cazzo io o sono due texture veramente o sono due texture o esplode il mondo c'è una console fa implode malissimo fammi vedere stasera raidiamo qualcuno ma no stasera è il giorno libero per tutti di nuovo la Switch esatto mo esploto porco fa tipo paride me do fuoco e implode in mille pezzi ma comunque io vi ringrazio per la compagnia su Switch ho paura ma ormai i bug non sono una cosa che cambia da piattaforma a piattaforma quindi quello stai tranquillo Evil il problema su Switch è è è le performance perché ragazzi stavo per chiudere la live però facciamo un piccolo su Switch Phoenix right non mi ricordo come cazzo si chiama Zelda fatto ambientato nella Grecia va a 15 frame Zelda Age of the Calamity la quello la Musou lasciamo perdere se giochi a Warframe mi dispiace vabbè che Warframe in realtà per quanti sono dicianno magari hanno ottimizzato The Christ va sui telefoni fra un po' Warframe la cosa che vi deve preoccupare su Switch sono le performance però non lo so non ho non ho idea vedrò un gameplay quando uscirà ma comunque stavo dicendo io vi ringrazio per la compagnia nonostante i 1500 problemi stasera io mi impunto scarico tutte le live e le ricarico e le faccio sotto che diventano una non me ne frega un cazzo almeno qua su Twitch almeno qua su YouTube no magari le vecchie però mi impunto grazie mille a tutti quanti insomma per la compagnia spero che la live vi sia piaciuta noi ci vediamo sta tornando su l'ira di Cristo noi ci vediamo domani sera con Dragon Age Awakening mi raccomando dormite bene o continuate bene a fare le vostre cose ricordate sempre Kogi che mi fa bene bene buonanotte il Dragon ne ho tutti quelli che sono rimasti comunque a mezzanotte e mezza ciao ciao ciao